Il bacino del Mediterraneo è interessato da correnti fredde provenienti dall'Europa nord-orientale che determina a livello termico condizioni meteorologiche di stampo invernale. Infatti le temperature da alcuni giorni stanno facendo registrare ovunque valori ben al di sotto della media stagionale. Su alcune regioni, in primis quelle del settore adriatico, si attivano a fasi alterne condizioni di tempo instabile con nevicate fino a bassa quota, una situazione che più volte si è verificata in passato in questo periodo ma senza assumere carattere di persistenza. Invece quello che sta accadendo ora è proprio la persistenza di una configurazione barica che favorisce il continuo afflusso di aria fredda di natura continentale. Ne risentirà anche la nostra regione nel corso di questo fine settimana e per di più in condizioni di tempo marcatamente instabile relativamente alla giornata di sabato. Osservando la cartina in basso, prevista proprio per sabato 5 marzo, notiamo un'anomala figura di alta pressione con massimi in prossimità della Scandinavia, la quale favorisce la discesa di nuclei di aria fredda di estrazione artica verso la nostra penisola. Uno di questi nuclei nella giornata di sabato 5 irromperà sull'Adriatico e si porterà sul Tirreno dove andrà a generare un minimo di bassa pressione, il quale determinerà un diffuso peggioramento sulla nostra regione, ritorneranno le precipitazioni ed assumeranno carattere nevoso in Appennino a quote medio-basse. Ma ecco in dettaglio il tempo previsto per questo fine settimana. Sabato 5 marzo, cielo molto nuvoloso con precipitazioni e prevalente carattere di rovescio che dal settore settentrionale della regione si estenderanno alle rimanenti aree. Dal pomeriggio tendenza schiarita ad iniziare dalle aree costiere. Nevicati in Appennino a quote inizialmente al di sopra dei 700-800 metri ma con limite in calo entro la serata fin sui 500 metri. Sempre dalla serata i fenomeni di debole e moderate intensità tenderanno a concentrarsi nelle aree più interne e montuose, quindi avremo schiarite lungo le aree costiere. Temperature insensibile diminuzione soprattutto nei valori massimi, venti moderati da nord-est con locali rinforzi, mare mosso molto mosso a largo. Domenica 6 marzo condizioni di cielo isregolarmente nuvoloso con maggiori addensamenti lungo la dorsale appenninica dove saranno possibili spruzzate di neve a quote collinari. Temperature senza particolari variazioni ma su valori che si manterranno abbondantemente al di sotto della media del periodo. Venti moderati da nord-est con tendenza a diminuire di intensità dalla serata. Mare da mosso a poco mosso. Nei primi giorni della prossima settimana continuerà ad affluire aria molto fredda che manterrà le temperature su valori bassi, specie nelle ore notturne e al primo mattino. Tra martedì 8 e mercoledì 9 il flusso di correnti fredde potrebbe addirittura accentuarsi a causa dell'affondo di un nucleo d'aria ancora più fredda in discesa dall'artico russo. Una situazione abbastanza delicata a livello di analisi relativamente alla traiettoria che assumerà tale vortice. Sulla cartina prevista per la giornata di martedì 8 marzo ho indicato due possibili soluzioni che al momento godono dello stesso grado di affidabilità. Qualora la colata gelida assumerebbe una traiettoria meridionale, in pratica verrebbe soddisfatta la seconda tra le due ipotesi mostrata sulla cartina, ecco che a partire da mercoledì 9 marzo la nostra regione verrebbe colpita da un'ondata di freddo molto intenso con risvolti anche eclatanti. In questo caso i fiocchi bianchi andrebbero ad interessare anche alcune aree pianeggianti. Evoluzione, ripeto, molto delicata che andrà seguita passo passo con l'uscita delle prossime elaborazioni numeriche. Invito pertanto i telespettatori a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito www.meteogiuliacci.it e sul gruppo facebook meteo cilento. Termino qui un buon fine settimana da Giuseppe Stabile.